... Martedì 9 ottobre ci troviamo alla Rotonda Mare a Senigallia dove si stanno svolgendo le battaglie di latte art dell'Ax Battle. Infatti oggi pomeriggio i migliori baristi provenienti da tutta Italia si sfideranno per realizzare il miglior cappuccino decorato al bricco. Assessore l'organizzazione ha scelto proprio Senigallia per svolgere questa gara una grande soddisfazione. Una grande soddisfazione siamo felici davvero di poter ospitare in questo contenitore unico che la Rotonda sul mare, diciamo che ormai è la regina della costa adriatica possa organizzare e ospitare questo bel evento che lo esalta tra l'altro e dà alla possibilità soprattutto ai tanti partecipanti di conoscere e di scoprire la nostra regione, la regione Marche che è una regione fantastica e Senigallia sicuramente è la regina di questa costa adriatica. Senigallia è anche la capitale del turismo enogastronomico e in questo contesto l'esaltazione delle eccellenze legate anche al food ma anche al drink quindi penso ai caffè che diventano ormai nella nostra quotidianità un'eccellenza che possono anche essere offerti e preparati con arte e cultura credo che diano davvero ancora più bellezza a questo territorio. Assessore una splendida giornata e questo sole riesce a rendere la Rotonda ancora più suggestiva per raccogliere questo evento? Sì, se è possibile ci sta riuscendo nel senso che la location magnifica riempita in maniera eccellente da questa manifestazione e la luce del sole di oggi rende tutto veramente magico. La scelta di Senigallia ormai è chiara, è quella di essere un punto di riferimento turistico di questa regione, cerchiamo di farlo al meglio, cerchiamo di farlo con la collaborazione di tutti e in questo caso Saccaria che ci porta un evento di questo tipo aiuta non poco la nostra amministrazione. Oggi avrete anche l'occasione di poter assaggiare dei cappuccini ottimi e pure decorati. Ma io non vedo l'ora, voi mi avete rapito, ma non vedo l'ora di andare ad assaggiarli e soprattutto a guardarli perché non sono solo buoni ma sono assolutamente bellissimi. E tra una sfida e l'altra abbiamo visto delle esibizioni di Flavio Agniballi, prestigiatore, noto al pubblico perché hai partecipato anche a diverse trasmissioni televisive. Raccontacelo anche perché sono diverse. Sì, ho partecipato a Tussichevales quattro anni fa, è stata un'esperienza fantastica e ricorderò sempre. Diciamo che da quel momento che ho capito veramente che la magia sarebbe potuta diventare veramente qualcosa di importante per me. Io diciamo che vivo qua, qua vicino da ormai più di dieci anni, quindi comunque è stata la mia città, sai, la scuola, gli amici, quindi comunque sono qua. Giochi in casa, possiamo dire così. Ci fai vedere anche qualche movimento? Abbiamo visto davvero impeccabile con le mazze. Ho come un mazzo di carte, cuori, quadri, fiori e picche. Prendo il mazzo e lo misco in questo modo e ti chiedo gentilmente di scegliere quella che vuoi, una qualunque. Mostrala in camera, guardala anche te, mettila pure al centro, perfetto. Deve essere dispersa totalmente in un punto del mazzo. Il mazzo può essere anche mescolato. Non deve essere né la prima né la seconda, spero. Però osservate. Uno, due, una carta arriva al centro del mazzo ed è proprio il due di cuori. E lei, complimenti davvero. Ti rivedremo ancora. Certo. A tra poco. Saccaria Caffè, un'azienda nata nel 1882. Paola, dunque oltre 130 anni di storia. Sì, buongiorno a tutti. La Saccaria, in effetti, le prime notizie della prima attività sono proprio del 1882 quando uno dei nostri antenati, un antenato della mia famiglia, cominciò a far conoscere questo prodotto qui nelle Marche. Oltre al caffè anche al commercio delle spezie, del sale, del pepe, degli articoli coloniali. Poi chiaramente negli anni l'attività si è sviluppata sempre di più, fino a quando nel 1962 è stato costruito qui lo stabilimento a Malina di Montemarciano, dove tutt'oggi operiamo e dove c'è la produzione. Noi siamo la quarta generazione, siamo tre famiglie che gestiamo l'azienda, ci siamo divisi un pochino i compiti. Quindi chi si occupa della qualità degli acquisti, chi si occupa dell'aspetto commerciale. Stiamo già preparando la quinta di generazione che verrà dopo di noi. Chiaramente la Saccaria è nata come un'azienda familiare, ma ora ci siamo ingranditi, siamo diventati una realtà che investe nel territorio e che opera anche in altri settori, ad esempio quello del commercio degli idrotermosanitari, che nacque successivamente a Bologna negli anni 30 e che poi con la ricostruzione del posto dopoguerra si sviluppò parecchio anche quello. Siamo riusciti a dare anche del lavoro alle famiglie italiane del posto. Siamo la responsabilità di oltre 100 famiglie qui, siamo un gruppo che è molto radicato nel territorio, investiamo nel territorio e speriamo di continuare a farlo, anzi sempre di più. Penso che manifestazioni come questa ne sono un esempio, poi il dottor Tinti vi potrà spiegare meglio. Raffaele, perché Saccaria ha deciso di sponsorizzare questo evento? Allora, per noi è stato normale investire sul nostro territorio, in particolar modo con una manifestazione di questo tipo. Saccaria è notamente radicata nelle Marche, ma anche nelle regioni limitrofe, e quindi abbiamo pensato di dare un contributo alla nostra città, alla nostra realtà, in particolare con questa manifestazione, la Latte Art Grinding, la LAX, che è nuova, che si sta sviluppando un po' in Italia, ma un po' in tutto il mondo, ed è un po' il sinonimo della nostra azienda, che ha una lunghissima tradizione, però guarda non al passato, o meglio, anche al passato, ma soprattutto al futuro. Attraverso anche queste manifestazioni cerchiamo, insomma, di dare ai nostri clienti, ma soprattutto agli appassionati di quello che è la caffetteria, che è la Latte Art, che in questo momento sta avendo grandissima diffusione, un piccolo contributo come azienda, insomma, che in qualche modo nel nostro settore è leader nella caffetteria e nel caffè torrefatto per settore oreca e non solo, e quindi siamo contenti di essere partner di questa manifestazione. Tiri Bocco Grandi Cucine non solo sponsorizza questa sfida, questa gara, ma ha anche una bella esposizione alla Rotonda Senigallia. Mattia, voi giocate in casa ugualmente perché avete la sede proprio vicine. Siamo qua al Ponte Rosso, in Senigallia, per cui dalla Rotonda saremo a 300 metri, siamo proprio vicinissimi, guardi, sì, sì. Dicevamo un grande allestimento e esposizione di prodotti. Sì, bene, diciamo che qua più che altro abbiamo portato una scelta, una cosa più inerente al discorso bar, al discorso caffetteria. Per quanto riguarda la mostra invece al Ponte Rosso abbiamo ben altro, insomma, grandi impianti, cucine, quello che riguarda minuteria, piatti posati e bicchieri. Diciamo a 360 gradi, insomma, si può allestire qualsiasi tipo di locale, ristorante, hotel, quello che si preferisce, insomma. Ho notato che puntate sulla qualità ma anche sull'esteriorità del prodotto, quindi funzionale ma anche proprio bello da vedere. Beh, sì, soprattutto in un contesto come questo, della Rotonda, insomma, è importante mettere, diciamo, delle cose flash, però sì, siamo molto soddisfatti anche dell'evento che sta venendo fuori, è molto molto interessante, molto. Buon proseguimento. Vi ringrazio, vi ringrazio tanto, arrivederci, grazie. E continuiamo a parlare di caffè, ma di caffè molto particolari, gustosi, con davvero diversi gusti, Gabriele Foodness sponsorizza questo evento e portate anche voi una vasta gamma di prodotti di qualità ma particolari, come dicevo. Sì, noi abbiamo una varia gamma di caffè speciali, siamo specializzati nel ginseng, però abbiamo fatto una linea di caffè speciali che contengono prodotti molto particolari come ingredienti. Parliamo di ganoderma, di caffè in mascia e soprattutto abbiamo lanciato due prodotti nuovi che sono Mermaid e Minicao. Sono tutti con prodotti, come dicevo, funzionali. Senza zucchero? Senza zucchero, senza zuccheri aggiunti. Abbiamo dolcificato con il maltitolo e lo stevia. Molto importante anche per le persone che hanno magari problemi con il glutine, quindi anche per loro è... Assolutamente, sì, tutti i nostri prodotti sono senza glutine e senza lattosio, quindi adatti a tutti. Per quanto riguarda le macchinette invece? Allora, le macchinette noi le diamo, siamo rivolti al canale bar e le diamo in comodato d'uso gratuito con l'assistenza naturalmente a carico nostro. Dove ha sede l'azienda e se avete anche un sito internet di Foodness? L'azienda ha sede a Curtatone, Mantua, come sede logistica. Poi abbiamo la sede per l'ufficio marketing a Reggio Emilia e il nostro laboratorio che è a Brescia. Il nostro sito è www.foodness.it E lì potranno ovviamente recuperare tutte le informazioni del caso? Assolutamente sì. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Anche Virtual Tour certificati Google è presente alla rotonda, Raffaella sei la fotografa ufficiale. Sì esatto, io ringrazio la Saccaria Caffè che mi ha chiamata per realizzare il servizio fotografico a questo evento molto bello. Io sono un fotografo certificato Google, quindi normalmente mi occupo di fotografia tridimensionale. In questa circostanza naturalmente abbiamo sviluppato foto statiche di tradizione, ma sicuramente il nostro core business è ormai diventato quello della fotografia panoramica virtuale con la quale abbiamo iniziato a ritrarre non soltanto aziende, quindi dimensioni minori, ma anche territori, aree archeologiche, siti turistici di grande rilievo. Lavorate su tutto il territorio nazionale. Sì esatto, noi lavoriamo non solo su tutto il territorio nazionale, ma addirittura siamo arrivati all'estero in più circostanze dove Google ci ha convocati. Addirittura siamo arrivati ad Amsterdam, a Tokyo, a San Francisco dove c'è anche la sede ufficiale di Google. Roberto, che tipo di approccio hanno le aziende con i servizi che offrite? Sono molto ricettive, infatti anche in questi ultimi periodi stiamo lavorando con tantissime strutture, showroom, hotel, resort e siamo molto contenti del risultato. Ringraziamo anche la Saccaria per questa giornata in cui siamo ospiti con la nostra agenzia. E alle nostre spalle c'è una macchinetta del caffè Flavio dell'Ortona Service che fornisce tutto il vario materiale che oggi ha fatto caffè di continuo, l'avete offerti a tutti i presenti. Oggi ha lavorato la macchina, oggi si è comportata bene, come del solito si comporta, essendo una delle migliori macchine la Cimbali, azienda a cui rappresento da 30 anni per la zona nord delle Marche, è un ottimo prodotto, ci dà tanta soddisfazione e oggi vedete la macchina... Alla rotonda. Quali sono le sue caratteristiche principali? E' essendo una macchina affidabile, carina, robusta e tutte le qualità che deve avere una macchina per garantire un servizio al barista. E' proprio nel posto esatto oggi perché questo evento dedicato ai baristi è sicuramente d'aiuto. E' non plus ultra per quanto riguarda la preparazione e quant'altro. Che tipo di territorio servite? Marche nord, tutta la zona Marche nord, dall'entroterra alla riviera. Avete un sito internet di riferimento oppure qualcosa da poter consultare, una sede? Abbiamo un sito internet e tutto quanto, ma comunque non è che tendiamo tanto a divulgarlo perché ci affidiamo più ai nostri clienti. Infatti ancora penso sia l'unica ditta, o penso una delle uniche ditte anomale, che non abbiamo né biglietti da visita né adesivi. Il rapporto quello che è con... Il rapporto che abbiamo con i clienti è tutto un passaparola. Quindi siamo una ditta anomala perché molti ce lo chiedono, ma come fate, è il passaparola dei clienti. Si ritorna a quello che si faceva una volta, quindi non tutto social, non tutto su web, ma il contatto umano. Il contatto umano, difatti dietro a questo noi ancora non abbiamo nemmeno un libro commissioni. Si vendiamo per telefono, quindi telefoniamo, conosciamo l'esigenza del cliente, gli consegniamo la macchina e poi si parla da pagamenti e quant'altro. Bene. Prendiamo un caffè dopo, senz'alto? Ma volentieri, sì sì, sono volentieri, senz'altro. Oggi è veramente buono, eccezionale. Marco, da chi è stato organizzato l'evento? Questo evento è stato organizzato dalla Torre Fazione Saccaria di Senigallia in collaborazione con Latte Art Gradic System. È una tappa che comunque ha un seguito perché ci sarà un'altra tappa in Sardegna. Ci saranno le finali a novembre 2019 all'OS di Milano e ci sono state altre tappe fatte a Milano, a Singapore, quindi è una tappa internazionale. Si sfidano i migliori baristi, dove sono tutti certificati, sono varie categorie. In questa tappa si sfidano le categorie verdi, rosse e nere. E con questa distinzione da che cosa dipende? Dal livello di difficoltà del cappuccino. Il verde ha un livello base, il rosso ha un livello medio e il nero ha un livello molto alto. Infatti adesso stiamo seguendo la tappa del nero perché comunque sono i migliori baristi. La formazione è una cosa fondamentale oggi per i baristi, per riuscire a fare un buon caffè ma soprattutto un buon cappuccino. In quanti hanno partecipato e stanno continuando a partecipare e più o meno da dove arrivano? Allora abbiamo avuto oggi 16 partecipanti e arrivano un po' da tutta Italia. Quindi chi è arrivato da Torino, da Roma, Udine, Toscana, Massa Carrara, una ragazza che ha vinto, poi tra l'altro molto brava. E' Senigallia che giochiamo in casa, ce ne sono stati 5 di Senigallia e anche gente da Milano. E poi vedremo ovviamente anche le premiazioni perché il pomeriggio continua. Continua il pomeriggio, verranno premiati con dei trofei fatti sempre in collaborazione con Saccaria e Lattear Grandy System. E dopo di che avremo un aperitivo offerto da Stefano Tonucci, Cantina Santa Barbara e con tutto il buffet offerto da Deli France. Che comunque è un'azienda a livello mondiale sulla terrazza qui alla Rotonda Mare. Quindi continuiamo ad amminare intanto lo spettacolo non soltanto del mare ma anche dei ragazzi che si stanno ospitando. Perfetto, continuiamo tranquillamente la nostra serata bevendoci un buon bicchiere di vino sulla terrazza alla Rotonda Mare. Mario, tu hai curato tutta la parte gastronomica, io ho assaggiato qualcosa, devo dire che era davvero davvero squisito. Fra poco vedremo anche un bellissimo buffet allestito all'esterno. Che cosa hai preparato? Allora, io ho preparato poco in realtà, adesso io ti ringrazio tantissimo dei complimenti. Abbiamo semplicemente fatto un pane con le farine Paolo Mariani di Barbara, che sono secondo me delle grandissime farine. Grazie alle quali ho portato oggi un pane al 100% di idratazione, solo lievito madre, senza birra, 36 ore di lievitazione. Ha il cacao, al quale sopra ho aggiunto quella chicca per fare la tartina perfetta, che è una maionese di acqua faba, che è l'acqua di cottura dei ceci. E infine delle verdure rucola, prezzemolo e insalata, dei idratate, 42 ore a 40 gradi. E una goccia di aceto balsamico di Modena tradizionale, indicato 15 anni per la parte acidula. Grazie Mario, ti lasciamo al tuo lavoro, buon prossimamente. Grazie a voi, buona giornata anche a voi in questa bellissima rotonda Mare Senigallia. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi. Mattia, come è andata questa giornata? E' andata molto bene. Meglio di così non poteva andare? Eh beh no, direi. Sono molto contento e... E niente, ora torniamo a casa con una nuova esperienza in più. E boh, è un primo passo e ce ne saranno ancora tanti altri da fare. Come hai trovato i tuoi sfidanti? No, eravamo non tantissimi ma quelli che c'erano tutti di buon livello e quindi ancora più soddisfazione nell'aver portato la vittoria. E quindi no, no, è andata molto bene. Ho fatto anche complimenti a tutti gli altri perché... Un buon livello. Un buon livello, sì, assolutamente. Tu sei di Torino, che cosa ti ha spinto ad arrivare fino a Senigallia per partecipare a questa competizione? In realtà sono entrato nel mondo delle competizioni da poco, da circa quasi due anni. E niente, quindi quelle che riesco a fare nonostante i chilometri, l'organizzazione con il lavoro e tutto quanto è un po' complicato. Però se posso, molto volentieri, certo. Poi la location, il posto, è tutto. E se i risultati sono questi, conviene. Tanto di guadagnato, certo, assolutamente. In bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie mille a voi, grazie. Diretta Sisti, è ancora 2-0. Diretta Sisti. E passiamo al rosso, perché Diletta Sisti è la vinciterice di questa categoria. Abbiamo seguito ovviamente tutto il tuo percorso di questa giornata. A volte ti abbiamo visto anche non convinta del risultato, eppure hai sempre vinto. Lei vinto e tu sei pessimista. Io sì. Non sono mai convinta del risultato, quindi insomma sì. Però insomma è stata dura. Insomma tutti bravi, bravissimi. Però dai, sono contenta. Di dove sei tu? Provincia di Massacarrara. Però sì. Ho visto che ci sono anche dei parenti oggi, dei familiari che ti supportano, degli amici e colleghi. Amici e colleghi. Sì, sì, sì. Alla fine ti abbiamo visto anche un po' emozionata, quindi forse hai scaricato tutto lo stress accumulato durante queste ore. Sì, assolutamente. È una bella soddisfazione, ecco. Sì, sì, sì. Progetti continuare in questo percorso, sperando insomma di crescere. E di portare a casa sempre più copia possibile. Sì, speriamo. Noi te l'auguriamo. Grazie di lei. Grazie, grazie mille. Grazie. 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 Grazie a tutti. E dopo questa lunga giornata finalmente sono a fianco del vincitore Manuel Verdini, vincitore della categoria nero e tieni ben stretta questa coppa. Abbiamo visto che hai scaricato un po' la tensione. Allora ti spiego. Sono quasi dieci anni che faccio latte e arte. Mi piace insegnare, mi piace trasmettere quello che io amo agli altri, ma ho un grande problema. Perdo sempre le gare. Io vado in gara e ho timore. Ringrazio, visto che siamo di Fano, ringrazio Pietro Margiotta, mio mental coach, che abbiamo fatto selezioni insieme di coaching e devo tutto questo a Pietro perché tu puoi essere bravo quando ti pare, ma non devi essere solo allenato, ma devi essere bravo qua. Io non ero mai bravo qua. Trasmettevo il mio amore e gli altri, ma in gara non riuscivo, perdevo sempre. Una vittoria tanto attesa finalmente è arrivata. Di dove sei Manuel? Sono in Senigallia, sono qua a casa mia. Infatti c'era tantissimo tipo intorno che sicuramente ti può aver agevolato anche in questo, il supporto delle persone. Guarda, io sono una persona che in gara non guardo nessuno, se sono in casa, fuori casa, però soffro l'attenzione, tantissimo, soffro veramente l'attenzione. Non sono mai pronto, mi posso allenare quando voglio, non sono mai pronto dopo l'allenamento. Questa volta mi sono sposato il 15 di settembre, dopo il matrimonio abbiamo fatto tre settimane di ferie, io non mi allenavo da un mese, ho fatto cinque giorni di allenamento. E ora cosa ti aspetta? Ora vado a Milano a fare i campionati mondiali, vero il massimo, vero il massimo. In bocca al lupo, porta davvero in alto Senigallia e tutta la nostra regione. Grazie. Grazie a te e magari. Grazie, ciao ragazzi. E sono insieme ai due giudici, Alessandro e Manuela, tutt'oggi al lavoro, come è andata la gara? La gara è andata molto bene, i ragazzi erano tutti bravissimi, infatti non è stato per niente facile giudicarli, insieme a Manuela che con la sua esperienza siamo riusciti a fare un punteggio generale sui cappuccini e trovare il più bravo alla fine. A volte il pubblico non era d'accordo, però giustamente il giudizio tecnico è quello che conta e che cosa guardavate esattamente? C'erano anche una questione di linee ad esempio? Sì, a parte le linee spesso bisognava controllare anche l'under o overfill, quindi quanto latte, quanto liquido c'era in tazza, se era un po' sopra, se era sotto, il contrasto era una delle cose più importanti, la simmetria, soprattutto nella black jug che è del 10%, quindi quasi nulla. Spieghiamo quale è a casa. La simmetria, la black jug e la tira nera, quindi un po' come le cinture del karate, la più importante, però mettiamo un puntino perché c'è una ancora più importante che è quella oro e l'unica che ce l'ha è lei al mondo. E lei, infatti io vorrei chiederti anche quali sono i piccoli consigli che potresti dare a tutti coloro che stanno cercando di arrivare al tuo livello, ti abbiamo visto prima con le mani in tazza al lavoro, davvero bravissima, complimenti, campionessa italiana. Allora, quello che sostanzialmente spieghiamo, almeno vogliamo insegnare, è che principalmente bisognerebbe andare in tazza con dei criteri e lavorarci bene su quelli, perché a volte si può o vincere per poco o perdere per poco, quindi quando si diventa più miticolosi nel proprio lavoro, secondo me si riesce a raggiungere quello che poi è la differenza come è stato in questo caso, che non è stato per niente facile e ci siamo realmente dovuti confrontare su ciò che erano le mie opinioni e le sue e mettere insieme i nostri giudizi. Quindi precisione, manoferme e concentrazione. Soprattutto sì, sì sì sì, soprattutto sì. Bisogna imparare ad essere miticolosi nel proprio lavoro, anche perché ciò che fa la differenza è quel mezzo punto in più o in meno, quindi indubbiamente consiglio concentrazione, grande pulizia e soprattutto grande tecnica. Questo è fondamentale. 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 Adesso possiamo andare a festeggiare con i vincitori. Assolutamente. Andiamo. Luca, oltre ad essere il coordinatore di Latte Art Grading System, oggi hai condotto e presentato tutte queste gare. Possiamo dire che sono state davvero entusiasmanti. Tanta competizione, ma forse sana competizione, perché vedevamo anche alla fine degli abbracci, insomma delle strette di mano e poi ovviamente alla fine vince il migliore. Vero, io credo che quello che dici tu ora, cioè la sana competizione, l'amicizia, sia l'obiettivo primario di questi eventi che quello di accomunare e far crescere la passione su queste attività, che poi portano comunque attività professionali di base e poi la gara è bella in sé, è bella perché è un gioco, è bella perché fa comunione, è bella perché fa amicizia ed è bella perché porta avanti un qualcosa che piace e che fa anche divertire tutto sommato. Dal punto di vista tecnico, te lo chiedo per le persone che non sono proprio del settore e anche per far capire bene a casa, il lancio dei dadi serve perché uno dei due ragazzi può scegliere quello che dovrà eseguire? Diciamo che in realtà il lancio dei dadi serve per far partire la sfida, cioè decide il primo che lancia la sfida, cioè che decide il primo disegno e poi gli altri vanno a turno rimbalzando l'uno sull'altro, quindi il dado fa partire la sfida sostanzialmente. Ora vi aspetta ancora tanto lavoro, è finita questa giornata, però l'anno non termina qua, ci sono altri appuntamenti. Sì, abbiamo il prossimo mese, verso la metà di novembre, abbiamo la Lux Battle alla Sciarca Arena di Palau in Sardegna, poi appena si aprirà alle porte della primavera avremo un altro evento all'Arena Roma, quindi continuiamo con altri eventi per portare poi tutta questa strada che porterà poi la finalissima nazionale mondiale intorno al 20 di ottobre 2019 a Milano nel Salone Internazionale Caffè Host. Intanto concludiamo questa giornata a Senigallia, perché proprio questa città? Fondamentalmente perché qua è nato un gruppo di verdignani che nascono un po' dal campione che ha vinto oggi, che con passione hanno portato avanti questa disciplina, chiamiamola così, e sostanzialmente poi la location che ci hanno proposto è piaciuta all'Ax, aveva proprio la forma dell'Arena e poi con il mare intorno, insomma, era una delle cose più belle di questa giornata, quindi complimenti anche a Senigallia che ci ha ospitato e anche comuni.